Ad è stato profonda emozione in tutta la provincia di Lucca l'improvvisa scomparsa all'età di 77 anni avvenuta all'ospedale Versilia, dove era ricoverato da qualche giorno, del notaio Umberto Guidugli, stimato professionista. Il virus del momento lo ha strappato alla vita e agli affetti familiari. Abitava a Corceta e il suo studio notarile, che fu del padre Gian Giacomo, anch'esso notaio, era in Palazzo Masini, nel cuore storico di Petrasanta. Chi si rivolgeva al notaio Guidugli per vari tipi di pratiche legali e amministrative legate alle funzioni del suo incarico, era certo di trovare un interlocutore attento e scrupoloso, molto preparato sulla materia e prodigo di consigli. Le sue doti umane e professionali erano di altissimo valore. Anche nel mondo del credito Guidugli seppe distinguersi con la presidenza della Banca di Credito Cooperativo della Versilia e i prestigiosi incarichi ricoperti nel settore bancario, regionale e nazionale. Da non dimenticare il suo impegno come amministratore pubblico, la lunga attività di consigliere comunale a Seravezza, oggi sua figlia è assessore al sociale di quel comune e quella svolta successivamente a Petrasanta. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città, un passaparola che in breve ha creato in tutta la Versilia e non solo profonda impressione e vasto cordoglio. Il sindaco di Stazema Maurizio Verona ha espresso il dolore di tutta la comunità per la scomparsa del notaio. Maria Domenica Pacchini, commissario della Lega Viereggio, si è unita al dolore della famiglia Guidugli. Perdiamo una personalità di altissimo rilievo, un concittadino dalle doti preziose e dal profondo impegno civile, politico e professionale, un uomo che nell'arco di molti decenni ha contribuito, in modi diversi, al progresso della Versilia, ha dichiarato il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella. Il cordoglio alla famiglia è espresso anche dalla direzione della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, dalla Fondazione Versiliana, dal sindaco di Petrasanta Giovannetti, dal presidente del Consiglio Brizzolari e dal senatore Massimo Mallegni.